Elena Luisi rompe gli indugi del centrodestra di Seravezza avanzando la sua candidatura a sindaco del comune. Una presa di posizione che nasce come contrapposizione alla candidatura dell'attuale vice sindaco Valentina Salvatori. Reduce dall'esperienza politica della lista idee in comune che ha appoggiato la candidatura di Riccardo Cavirani, la Luisi intende mettere in campo l'esperienza maturata in questi cinque anni, confortata dalla spinta dei molti cittadini che la stanno incoraggiando in questa candidatura. Da politico, da consigliere di opposizione ho sempre fatto sul territorio un'indagine puntuale su tutte le criticità e su tutte le mancanze che sono sorte fino adesso. Questo è un luogo simbolo perché in questo punto nel centro storico di Seravezza abbiamo la certificazione di come l'amministrazione attuale sia stata fallimentare. Abbiamo davanti a noi le scuole frediani che dopo tantissimi anni questo mandato sono state chiuse quindi è venuto a mancare un servizio importante basilare alla comunità e lì abbiamo il palazzo comunale che in questo momento è in rifacimento. Non è un rifacimento totale per cui avremo un effettivo miglioramento di quel palazzo ma è un intervento di efficientamento termico e di consolidamento sismico che costerà alla comunità più di 2 milioni di euro, 2 milioni e 300 mila euro che però non vedrà una modifica o una riqualificazione anche estetica se non funzionale decente. Per cui io reputo che questi siano veramente il biglietto da visita dell'amministrazione uscente ma anche dell'amministrazione che si ripropone quindi della vice sindaca Valentina Salvatori che in questo momento si presenta con grandi proclami ma che ha alle spalle tutto un vissuto di questo genere.